ciao a tutti io e Iro siamo qui che stiamo aspettando che apra un negozio perché dovremmo fare un acquisto ancora prima di Berlino e volevo rispondere a due o tre cose che mi avete scritto allora sì a tutti i messaggi rispondo io non ho nessuno che mi aiuta al momento alla gestione del mio profilo in quanto penso di riuscire a farcela ancora da solo a gestire un profilo facebook mangiare vestire lavarmi senza l'aiuto di nessuno Iro che comunque invece è un po' pigro su alcune cose è vero si fa aiutare da una controfigura adesso vi presento anche la controfigura di Iro eccolo qui nelle scene pericolose o quando Iro è particolarmente sbogliato eccetera viene usato lui mi avete scritto videato in privato anche via la mail di facebook che non sapevo nemmeno di avere alcuni sulla pagina alcuni sul profilo eccetera mi avete scritto commenti riguardanti la frase sui ciclisti piuttosto che la frase famosissima cagatevelo voi allora ho detto che i ciclisti che viaggiano in quattro o cinque uno in fianco all'altro lungo la strada il codice della strada dovrebbe consentire di... qualcuno mi ha scritto ah non puoi dire una cosa del genere io sono un ciclista queste certe cose non le faccio big up per te qualcun altro mi ha scritto ah tu non puoi scrivere cose del genere perché io ho avuto tre figli sette nipoti nove cani un gatto un pappagallo un elefante e anche due liocorni però non mi sono mai comportato così fantastico qualcun altro mi ha scritto ah tu non puoi dire che una donna è una droga perché si comporta in un certo modo eccetera 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 perché manchi di rispetto a tutte le donne io non manco di rispetto a tutte le donne se una donna si comporta così se un ciclista si comporta così se un padrone di cane si comporta così io lo identifico in un determinato modo se è un deficiente se è un rincoglionito e tanti altri grandi belli aggettivi che potrei usare se tu mi vieni a dire ah io sono un ciclista ma non mi sento un rincoglionito perché non mi comporto così le tue parole mi hanno offeso c'è qualcosa che non va o sei confuso o hai la coscienza sporca decidete voi a quale categoria appartenere c'è qualcuno che mi scrive ah io mi sento offeso perché ho tre figli e me li sono sempre cagati io bravo sei allora una delle persone che apprezzo ti senti offeso perché io non odio bambini e non odio neanche i genitori io odio i genitori coglioni che educano più o meno crescono dei bambini coglioni io adoro gli animali mi sanno sul cazzo i padroni deficienti adesso non è che posso dire di provare particolare simpatia per i ciclisti però quantomeno non li odio quelli che si comportano educatamente non siamo al giro d'italia teste di cazzo si viaggia in fila indiana lo dice anche il codice della strada ci sono delle regole che sono quelle di civiltà di di legge anche eccetera che vanno rispettate se non le rispettate per me potete andare a fare potete cancellarmi dall'amicizia e lasciare tutto così com'è ok ultimissima cosa adesso poi andrò con io a vedere un paio di situazioni che ci avete sempre suggerito di cui ringrazio ringrazio marco ringrazio manuela che mi hanno mandato due bellissime idee ringrazio anche fabio e cristina marito e moglie vi ringrazierei tutti ma non ho un elenco scritto con i nomi quindi non non saprei dove andare a pescare prima o poi farò un elenco vi ringrazierò proprio nome per nome e per tutto il resto alla prossima ciao ne